Su Piazza Bellini per esempio si sta facendo un grandissimo lavoro, associazioni, commercianti seri, cittadini, voglio ricordare che pochi giorni prima del gravissimo omicidio della sanità c'era stato un comitato provinciale dell'ordine a sicurezza pubblica, ha chiesto proprio da me su Piazza Bellini che era stato molto proficuo, c'è stato un rafforzamento delle forze dell'ordine, c'è un grande senso di partecipazione, molti stanno capendo che bisogna coniugare attività notturna, vitalità ma anche con esigenze residenti e queste sono le risposte che a me piacciono, una città che si interroga, che si confronta, che cerca una sintesi, cerca un equilibrio, che vuole difendere una vivibilità H24 in una città piena di giovani ma che non tollera più che ci sia qualcuno, seppur una sparuta minoranza che circola in moto con i caschi integrali e con le armi in pugno. Questa è la risposta che lo Stato, la società civile, le istituzioni serie, il sindaco, gli amministratori, i consigli devono dare e che cerchiamo ogni giorno di dare con grande determinazione e passione la nostra città.